bastano le arance un po' per ogni tanto oh ma è il fisio al monico e non in molti perché il carro fagliolo prende le salcicce con forma di caldo oh ma è di buffasso aderenti alle braccia un giacchetto corto che arriva un giacchetto corto che arriva il mondo delle traccas della Sardegna sono chiamati entro traccas proprio per la rappresentazione organetto in voce per accompagnare un festoso ballo della tradizione e conne realizzate in diversi decenni e oggi come vi ho detto è stata dedicata a due grazie che accogliamo con un applauso la parte posteriore è elemento caratterizzante e fondamentale vi salutiamo con un applauso grazie a tutti la tradizione di questa festa se a queste saranno da 40 anni questa è la mia moglie